Con il Bari, che ormai ha preso il largo ed è ad un passo dalla matematica a promozione in cadetteria, è tutto ancora aperto per secondo e terzo posto. La vittoria dell'Avellino sul campo del Picerno ha permesso ai Lupi di avvicinare il Catanzaro, ora secondo a quota 62. I giallorossi adesso attendono in Monterosi, mentre poi la prossima settimana saranno impegnati sul campo del lanciatissimo Foggia di Zeman, reduce da ben 10 risultati utili consecutivi. Per finire poi in casa con Campobasso, squadra che ha dimostrato di avere un rendimento migliore in campo esterno che tra le mie amiche, e chiudere la stagione con la Vibonese, desolatamente ultima e che il 24 aprile potrebbe essere già condannata alla retrocessione. Quattro sfide non semplicissime per gli ML e compagni. Di sicuro non è facile il calendario dei Lupi, che dovranno vedersela prima contro la Turris degli ex Sant'Aniele Sbraga al partito di Lombardi, corallini che nonostante qualche battuta d'arresto vorranno confermare il posto nei play-off. Successivamente i bianco-verdi impegnati al San Nicolo di Bari per una gara da sempre sentita, e nonostante la promozione dei galletti, di sicuro i bianco-rossi non vorranno fare brutta figura contro i Lupi. Nella penultima di campionata arriva la Vibonese e si chiude il 24 a Foggia contro Garofalo e Di Paolo Antonio. Sulla carta forse il calendario degli Irpini è molto più complicato rispetto ai giallorossi. Occhio però anche al Monopoli, i Gabbiani hanno una partita in più da giocare rispetto alle altre pretendenti. Oltre ai derby contro Taranto e Dandria avranno le sfide contro Paganese e Latina fuori casa senza dimenticare lo scontro diretto con il Palermo. Le Aquile come i Lupi forzano il cammino più duro. Oltre alla trasferta di Monopoli infatti ci sarà il derby interno contro il Catania all'ultimo Vanna Bari. Storia ancora da scrivere per le due piazze d'onore in vista degli spareggi play-off.